mi chiamo benjamin ho 12 anni vengo dalla svizzera lo scorso 30 maggio sono entrato nel suo negozio ma non avevo soldi con me e ho rubato un ovetto kinder mi dispiace molto so di aver sbagliato spero che mi possa perdonare perché vorrei essere in pace con lei e con dio è questo il testo della lettera che il proprietario di un negozio di alimentari di san marino si è visto recapitare qualche giorno fa l'uomo dopo averla letta ha deciso di postarla sul proprio profilo facebook insieme ai 10 euro che erano contenuti nella missiva scritta da benjamin il gesto ha piacevolmente sorpreso il signor chiaruzzi proprietario dell'alimentari di san marino ormai non mi sorprende più nulla con quello che abbiamo passato in questi anni ma oggi mi sono ricreduto si legge nel post condiviso dall'uomo su facebook sono rimasto allibito prosegue l'uomo e questa lettera dovrebbero leggerla tanti ragazzi che quotidianamente per gioco sfida mi rubano patatine caramelle o altro gli risponderò con una cartolina e un invito a tornare a trovarci per stringergli la mano e ringraziarlo del coraggioso gesto